Ciao a tutti e benvenuti in un nuovissimo video. Oggi siamo nel quinto episodio della MatriLand e aspettate eh, brodi smammare, già te l'ho detto nell'altro episodio eh. Cosa scambi? Cosa hanno la spada? Fami a vedere, la mia idea. Cosa scambi? Aspetta eh, quindi c'è di quello smeraldo, 19 smeraldi, bro tu sei mega caro. Altra roggia ce l'avevo, mi devo fare l'ascia, il piccone perché mi sto finendo e vediamo una cassa, di sicuro, e ovviamente non la posso permettere, intanto mi faccio un'altra fornace, non la faccio a me quando è l'inventario pieno, poi butto un attimo questo e vorrei prendere la legna, spero che dispogli perché tanto non mi serva niente quel coso, nell'altro episodio dove siamo andati, nel posto dove si finisce il gioco, io non so ancora come si fa, perché sto registrando un video dietro l'altro, perciò nell'altro episodio ho detto che sto registrando alle 11 ora solo non saranno le 11 e 14. va bene, facciamo le casse e poi nel prossimo episodio, scusatemi eh, perché è un giusto? Nell'altro episodio vi avevo detto che andavo nell'end, giusto? Eh, soltanto che, come faccio? Non ho l'ossidiana, non sono preparato perciò non ci va nell'end. Oggi non lo so, o miglioriamo la casa, intanto ci penso, ah, è vero, nell'episodio precedente avevo visto che tornando a casa dal posto dove si finisce il gioco c'era uno spawner, non sceglievo a buttare le ceste, forse faccio la farm, so che è presto, però lo devo fare, devo iniziare a farla, perché mi servono. Qua intanto metto questo, i diamanti, metto cosa a casa? Questo, 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 qua tutta la cosa preziosa, anche se la calcità non è preziosa, però ho dettagli. 10 di questo, vediamo se posso farmi l'incudine, l'incudine come si fa? Dov'è l'incudine? Cerca, vediamo se cerca, aspetta, l'incudine ci deve essere, vediamo come si fa. Si fa così? No. Scrivetemi nei commenti come si fa, non lo so fare, basta, mi arrendo, addio. Va bene, vado a scegliermi un cavallo. Quanto hai di vita? Quanto hai di vita? Quanto hai di vita, proprio che sia vita, non vai bene, tu hai abbastanza vita. Dov'è l'incudine? Dov'è l'incudine? Dov'è l'incudine? Dov'è l'incudine? No, non ci vedo quando sono morta, ho perso la sella. Vediamo se c'è l'altro cavallo. Non ci vedo, ho perso la genova. Ma la sella la posso rifare? Aspetta, forse ammazzando con la pelle. Un pezzo di pelle, non penso che si possa fare. Morite, morite, morite. Un pezzo di, me la potete dare della pelle? Chiedo della pelle, non chiedo l'oro. Che l'oro, l'oro non è che mi serve tanto, però... Niente. Niente pelle. Guarda, se me hai detto un maglielino. Me lo porto a casa. Vediamo se lo so qua dentro. No. Vediamo se la sella si può fare. No, con la bordatura che si può fare. Vabbè, non si può fare. Io so che non voglio di perdere tempo. C'è il mio pure sbrigare. Perché non voglio con un video di mezz'ora. E per ora abbiamo solo terzo tempo. Andiamo subito a vedere lo Spooner. Oddio mio. Oddio. 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 cioè non ho tempo, non mi va, devo pure sbrigare per lo spoiler, nemmeno mi ricordo tanto come si fanno, mi sembra si scava di sei, hai lati, sei nei lati di spazio, si mette l'acqua, aspettate, perché non nasce nessun zombie, meglio così, la targhetta la prende, semmai prendo il maialino e lo chiamo il maiale, facciamo le docce che dicono suonano, non suonano e poi suonano, ecco, si mette la scuola, la faccio ora, la fanno, piccone, ditemi se è così giusto, che poi pure di zombie, soltanto che in un altro mondo vanilla, che non ho portato in video, l'avevo fatta soltanto che i zombie non danno niente, perché quelli con l'armatura c'è uno su un miliardo, quando te ne esce, ti danno, ti usciva solo, usciva solo carne, carne morta, carne in marcia, come era? 1, 2, 3, 4, o 6, 4, 5, 6, perfetto, ho già un piccone finito, almeno ce ne sono tanti, poi chiedetemi se mai lo finisco, semmai faccio qualche live qua, scrivetemi nei commenti se volete le live, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? forse nel lento, forse finirò il gioco, per così mi tolgo il pensiero del drago e finisco subito il gioco, però siamo al primo, secondo, ho fatto il terzo, il quarto lo sto facendo in questo momento, forse nel tredicesimo, dodicesimo episodio come ho detto nel video precedente, scrivetemi se vi piace questa serie, facciamo così, se arriviamo a, non chiedo tanto, 30 like e faccio una statua, mi faccio una statua oppure qualcosa, costruisco qualcosa, anzi, faccio una casa a tre piani, enorme, se io ho 30 like, faccio una casa a tre piani, mi faccio un pezzo, forse è meglio se prendevo la dlt, posso rispondere la dlt e faccio prima, Anche se non è proprio il polvere da sparo, no. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, eh sì, saranno 6. Poi qua ci devo mettere l'acqua, tutto intorno, intorno all'acqua che va nella direzione del buco. Se mai faccio il mega buco qua, che porta giù in fondo, fino al fine del mondo, soltanto che è basso qua, perciò forse vi devo uccidere a mano. Sto morendo di solo, mi sono svegliata alle 7 e mezza con la sveglia e mi sono messa a vedere tipo del film, mi sono visto e poi ho iniziato a giocare. Appertate che mi scopo qua e chiudere. Ah, i 3 diamanti, che prenderò nel 500, nel 500, da 500 episodi, con l'ultimo episodio perché non mi andrà mai di andare a prenderlo. Ciao, il video finisce qua perché non mi vado a farlo durare una vita, lo spawner lo finiremo nel quinto episodio. Ciao. 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 Ciao.